Oggi la posa della prima pietra per la messa in sicurezza del ponte di Curtarolo è un problema su cui da tempo abbiamo posto la nostra massima attenzione. Si tratta di un intervento fortemente voluto anche da enti locali e rappresentanti delle categorie economiche. Il ponte si trova lungo la strada provinciale 47 Valsugana che collega Bassano, l'Alta Padovana e la città di Padova. È un'arteria assolutamente strategica per il nostro territorio. Da oggi partono i lavori per il rifacimento del ponte, un'opera fondamentale per l'Alta Padovana.